Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Come vedete l'ambientazione è un po' halloweenesca, diciamo così, perché oggi vi vengo a parlare del libro di Robert Bloch, Psycho. L'edizione che ho qua io è quella dei classici contemporanei della Bon Piano Editore, con il giusto interspazio, con i giusti caratteri, perfetta. Il costo è di 12 euro e per la traduzione si sono affidati a Martina Rinaldi. Probabilmente, vi anticipo già, non subito, ma nei mesi a venire, senterete parlare ancora di quest'autore da me perché voglio andare a leggermi anche gli altri libri che sono Getrus Quattro Autore e Gotico Americano. Libro al quale attribuisco un voto abbastanza alto, cioè quattro stelle su cinque, ma anche quattro e mezzo, mi è piaciuto molto. Prima di tutto, non so se voi abbiate mai visto, ma credo di sì, perché ormai è diventato un classico, un cult della filmografia, insomma, di Hitchcock ed appunto Psycho. Tra l'altro è proprio un bellissimo film, fatto molto bene. Devo dire che io adesso l'ho visto parecchi anni fa, forse una decina, andrò a rivedermelo così, mischerisco un po' anche le idee, rispolvero un pochino, faccio un ripasso generale di questo film. A me sembra che, soprattutto nei punti salienti, sia molto verosimile rispetto al libro. Certo è un'altra cosa, nel senso che ovviamente il romanzo è lui, è quello che gli ha dato i Natali, quindi è un'altra cosa. Sostanzialmente è la storia, quella che sembra essere la nostra protagonista, perché dico sembra? Perché in realtà il protagonista verrà svelato in seguito. Quindi noi abbiamo la donna Mary, che è innamorata prima di tutto 29 anni e all'inizio degli anni 50, comunque 60, essere 29enne e single non era una cosa buona. Questa donna ha un'occasione, ovvero rubare 40.000 dollari, che ai tempi era una cifra veramente grossa, al soldatore di lavoro e scappare. Invece di consegnarli in banca come lui vorrebbe che lei facesse, lei prende e scappa. Perché? Perché ha un fidanzato, anche lui grande, che non può sposarla ancora perché ha contratto un debito dall'eredità di suo padre e quindi sta cercando di pagarlo in maniera molto corretta, si è fatto dare del tempo dai fornitori e pian pianino lui con i suoi sforzi e col suo duro lavoro sta riuscendo a mettere da parte veramente dei soldi e quindi riscattare il debito. Però lei non sta più nella pelle di sposarlo perché la sua vita è stata comunque dedicata totalmente alla madre e alla sorella e a 29 anni si è stancata. Quindi decide di prendere questi soldi, fa un colpo di testa e partire. Partire e continua a cambiare macchina, ne cambia due, perché nel frattempo non vuole essere rintracciata da un nome falso al motel nel quale si ferma. È in K proprio il Norman Bates nei Bates Motel. Lei si è persa per strada, gli mancano pochi chilometri in realtà per arrivare dal suo fidanzato, ma è stravolta su 18 ore di seguito chi guida, non ce la fa più e questo motel le sembra veramente un sogno. È stanca morta, è affamata e quando arriva al motel c'è quest'uomo che si è palesa, che appunto è Norman Bates, che le sembrava subito un po' strano. Le confida di vivere con la mamma e lì da solo è una strada ormai che non è più di passaggio, perché l'autostrada che doveva essere costruita lì è stata spostata e quindi sostanzialmente è un punto in cui la gente arriva di rado. Niente, lei accetta l'invito di salire in casa di lui a cena e gli sembra proprio strano, perché dice che la mamma è proprio malata, però lui non può fare a meno di lei e quando lei, così, vedendolo stravolto, vedendolo stanco, gli chiede perché non la mette in un istituto, lui si agita molto, Dennis cannescente si mette a urlare e allora lei decide comunque di andare in camera a dormire. Se non fosse che quando arriva in camera lei si sfoglia e non sa di essere spiata da un buco che Norman ha dentro il suo ufficio e in questo buco lui riesce a guardare lei che si sfoglia. In preda a un'ebrezza alcolica, lui si addormenta, ma quello che andrà a scoprire è che la madre ha assassinato questa ragazza perché secondo lei ha provocato dei pensieri turpi nel suo Norman. E' da qui che comincia un po' la nostra storia, nel senso che c'è Norman che comunque comincerà a cancellare le prove e occultare il cadavere di Mary e quindi si avrà tutto un tempo narrativo molto concitato, molto agitato, molto frenetico. Ovviamente la ragazza sarà cercata, anche se fatto il nome è falso, qualcuno riuscirà a mettersi sulle sue tracce. Non so svelarvi di più perché il libro è bello, il libro è bello, va letto assolutamente e appunto il libro è questo. Infatti quando la ragazza viene uccisa Mary è proprio la scena della doccia, quella che avete presente, il coltello e lei che urla nella doccia, proprio questa è la scena, è la scena che tutti ricordano come quella di Psyco. Ecco ragazzi, adesso io ho altri tre libri da leggere e uno è già a buon punto, quindi spero di farvi presto la video recensione esatto in modo da sfoltire un pochino le mie letture perché mi accorgo di essere molto molto rallentata ultimamente e basta. Ecco, per il momento è tutto, io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!